Cari amici, è da oggi disponibile online la lunga intervista che ho realizzato con Riccardo Muti e che è uscita lo scorso 5 gennaio sul Foglio. Sono molto grato al maestro per il tempo che ha voluto dedicarmi in un giorno durante le prove con l'orchestra giovanile Luigi Crubini a Ravenna. Abbiamo trascorso quasi un'ora in un fitto e intensissimo dialogo parlando di musica, di direzione d'orchestra e di tanti aneddoti della sua ricchissima storia. L'intervista con Riccardo Muti è da oggi disponibile sul sito del Foglio.